È la fine di un sogno, il tramonto della speranza, la liquefazione di ogni desiderio? Ma no dai, non esageriamo, ammainare il 372 e rotti e sostituirlo con un più modesto 54 e rotti è solo un nuovo punto di partenza, magari persino più umanamente proporzionale. Il Monte Premi, per quanto ridimensionato, di annientato non ha proprio niente e resta più che appetibile. Sognare si può ancora e si deve sempre, anche se, ci ricorda un saggio 92enne incontrato qui, non bisogna essere attaccati ai soldi. Sia come sia al bar natale di via del circuito a Pescara, oggi è festa grande e non si parla d'altro. Quanto all'identità del fortunato vincitore di una delle 90 quote del sistema, denominato una buona stella e che ha fruttato 4 milioni e rotti, è buio totale. Ha vinto? Forse la verge, no? Sicuro? Sicurissima. Volete offrirci qualcosa, visto che avete vinto 4 milioni di euro? Che cos'è? No, no, che cos'è? Ah, lui fa lo gnorri, allora forse la signora ha vinto. Eh, magari. Ha una bella faccia contenta, serena. Io sono sempre serena. Con o senza 4 milioni? Assolutamente sì, anzi è meglio, secondo me. L'ha fatto lei? No, perché se no non starei qua, sicuramente, guarda, questo è poco ma sì. Vabbè, ma il giorno dopo non se ne può andare su. No, no, però l'unica cosa che sono contento è che comunque è stato fatto con 90 quote, quindi è stato diviso in parti eque su tutta Italia, ovviamente chi ne ha compati di più e chi ne ha compati di meno, l'Abruzzo comunque è stato baciato perché una qui è una penne. Sotto una buona stella il sistema costa 5 euro, è stato chiamato così, io mercoledì mattina tramite proprio il nome ho comprato una quota, poi il fortunato che dopo, subito dopo l'ha acquistato da me, adesso non so neanche chi possa essere stato, non ho per niente l'idea di chi possa essere stato. Uno ne è in questo locale, come fa a non ricordare che ha comprato quello? Perché comunque io compro tante quote e comunque le metto esposte in vendita e poi ovviamente non ricordo mai chi è che prende una, l'altra. Lei ha ricevuto qualche messaggio, qualche ringraziamento fino adesso? No, non si farà vedere secondo me nel momento, questo è poco ma sicuro. Ma lei ci guadagna qualcosa in tutto questo? No, no, non ci guadagno niente, questo è poco ma sicuro, per spezzare tutte quelle dicerie che dicono in giro che il ricevitore guadagna, che il guadagno non guadagna niente, solo sull'incasso ovviamente delle giocate, il lavoro che fa, solo quello. Ha vinto lei? No, no. Ma ce lo direbbe? No.